Quest'anno, grazie alla collaborazione con l'Università di Foggia e il patrocino del Comune di Sansevero, Agorà Scienze Biomediche è riuscita a portare la selezione locale di Femlab anche qui nel territorio della Capitana. In particolare, la selezione consisterà in un evento al prestigioso Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Sansevero che si terrà il prossimo 22 febbraio alle ore 18. Questo rientra nella linea di Agorà sulla divulgazione scientifica, che è uno dei principali aspetti che Agorà porta avanti nella propria attività. Come funziona Teatro? I vincitori delle selezioni locali saranno due, questi due vincitori andranno a Roma alla finale nazionale, chi vincerà la finale nazionale si confronterà in Gran Bretagna con i vincitori di altri 31 paesi in tutto il mondo. e quindi noi auspichiamo che qualcuno della Capitanata del nostro territorio possa raggiungere questo prestigioso obiettivo. Ci auguriamo che il 22 febbraio, questo evento, che noi siamo veramente orgogliosi di averlo sponsorizzato, pur per far capire che Sansevero non è un paese che si deve parlare sempre di delinquenza. Ci sono pure imprenditori che quando vogliono possono fare ben altre cose e il più importante che servano alla crescita di questo territorio.